Nuovo aggiornamento con Moversi in Toscana, ancora in studio Mauro Ciutini. Ci sono code dopo l'incidente sulla FIPI lì, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno, in direzione di Livorno. Code anche allo svincolo di lastra Signa, provenendo da Firenze. Ci spostiamo in A1 all'uscita di Firenze Sud, ci sono code provenendo da Bologna. Traffico intenso anche sulla 11, la Firenze-Pisa, tra Firenze-Ovest e Prato-Est, in direzione di Pisa. Si segnala traffico intenso sui viali a Firenze, in entrata e in uscita. E' sempre a Firenze via Guelfa per lavori edili fino alle 16 di domani venerdì, chiusura del tratto via Nazionale via Montanelli. È tutto per il momento, Moversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze. Comune di Firenze, buon viaggio a più tardi. Grazie a tutti.